Duro attacco all'amministrazione comunale di Terramo anche da parte del Partito Democratico, insomma da tutta l'opposizione e non solo. A mezzo tempo che noi diciamo che questa amministrazione non ha né le idee né la capacità per amministrare e ora compare in tutta la sua evidenza in un momento in cui sia la normativa nazionale che quella locale impone una capacità amministrativa di più ampio respiro. E' chiaro che le scelte che ha fatto l'amministrazione comunale nell'ultimo periodo colpisce in maniera molto forte le famiglie di Terramane. A partire dall'inserimento della tasi che non ha previsto la detrazione per numero per figli di figlio determina sicuramente un aumento molto alto della tassazione nei confronti delle famiglie che hanno i figli. A seguire è stato un aumento esponenziale dei costi della gestione degli assili nido da parte delle famiglie perché non solo sono aumentati il trasporto con tutta questa polemica che segniamo in questi giorni sui pulmini, sulla mancata sicurezza ma anche sul costo del servizio mensile. Ora abbiamo anche l'aumento dei buoni pasto. Le trazioni di cui loro parlano per le famiglie che hanno un reddito sotto a 10.000 si riferiscono solo poi a quelle che hanno ulteriori requisiti come la disoccupazione per lungo periodo all'interno della famiglia. Quindi non si applica a tutti coloro che hanno un reddito, loro invece dicono che si applica a tutti. E da ultimo ricordiamo ora anche questa polemica con i nonni vigili. Si è fatto una trattativa economica con dei pensionati che dedicano per una parte del loro tempo ad accudire questi ragazzi che attraverso la strada quindi a fare dei servizi non considerando che dei risparmi potevano essere fatti attraverso una politica giusta ed equilibrata. Il sindaco deve pensare che deve risparmiare sulle indennità che paga ai propri rappresentanti politici e cioè agli assessori del Presidente del Consiglio attraverso una evidente riduzione dell'indennità e queste riduzioni darle alla scuola e alle famiglie perché non ha altro modo per dare una risposta ai problemi del territorio. Non può accomodarsi lui nei suoi equilibri politici dimenticando i problemi delle famiglie di Terramane.